Siamo pronti a partire E con un Rai Quaza del genere è ancora più figo Che poi non so nemmeno se la musica sia stata modificata Perché non me la ricordo la musichetta di questa specifica parte Ma conoscendo Mad Phoenix forse l'ha modificata Mi sembra molto molto allegra E ci sta E poi si scopre che è la musica originale Ma va bene Deoxys stiamo arrivando E' uno spettacolo questa immagine Ecco il Meteorite All'attacco BOOM Fatality Eccolo Questa musichetta Quanto sei bello Quanto sei bello Allora Adesso bisogna vedere se Deoxys è sempre Deoxys o se è stato modificato Perché quella era una scena Quindi non si può modificare Ma adesso in battaglia si potrà vedere Cioè 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 Angra Punto interrogativo Mai New Sarà un altro riferimento Oh mio Dio Oh mio Dio Quanto è fico Quanto è fico Cioè ragazzi no Non so cosa dire Voglio vederlo per bene Aspetto che un attimino la scena si sposti A parte che è quasi completamente rosso Quindi adesso chissà di che tipo sarà E' tipo un Archeas modificato stranissimo E' tipo tutto nero E rosso Va bene Iniziamo a combatterlo Allora Abbiamo già il nostro Alter Raikwaza Evoluto al massimo Ragazzi questa è l'ultima lotta Della serie Quindi se mi Muoiono dei Pokémon Adesso non mi interessa Cioè a meno che non mi muoiano tutti Perderei la serie Ma non penso Comunque adesso posso andare molto più sciolto Quindi Direi di fargli Ascesa del Drago Senza dubbio Palla Clima mi usa E non ha effetto Fantastico Iniziamo subito bene Ok Danno poco Devo dire Ora speriamo che non mi colpisca Troppo duramente Provo a fare anche un Locom A volte già che ci sono Palla Clima Ok Va bene Le vostre randomizzate Non hanno giocato molto a suo favore Eh Gli ho fatto abbastanza E l'ho paralizzato Ovviamente questo Non si può catturare Perché poi Cioè sì Si potrebbe Però poi tornerebbe anche All'interno della Torre dei Cieli Come il Deoxys originale Ma direi che Arrivati a questo punto della serie Non ci interessa più Noi continuiamo Imperterriti con Locomovolt Beh direi che ci sta comunque A concludere la lotta In questo modo Con Alter Raikwaza Versus Angra My New Arceus Lo chiamerei a questo punto I due boss della serie Che si scontrano Nell'ultimo episodio Di storia Effettiva E alla fine A spuntarla E il bene Spettacolare Spettacolare Ottimo lavoro Mad Phoenix Per questa texture Di questo Arceus E abbiamo ufficialmente Finito con la storia Ormai rimane solo Il prossimo episodio Che sarà l'ultimissimo In cui andremo a fare Tutte le evoluzioni Randomizzate Incredibile Siamo riusciti a salvare il pianeta E finalmente è tutto finito Grazie mille davvero Ora devo scoprire Se una volta chiuso Un capitolo della propria vita Si possa davvero iniziare A scriverne uno nuovo A presto Liris Che conclusione ragazzi Rilevata emissione di energia Meteorite neutralizzato Confermo Meteorite neutralizzato Ah 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 Professore Ce l'abbiamo fatta Abbiamo distrutto il meteorite Abbiamo distrutto il meteorite Ce l'abbiamo fatta Per favore Manteniamo la calma Lui che l'altra volta Aveva detto Moriremo tutti Uno scienziato Deve sempre mantenere Un certo contegno Però in effetti Tirate le circostanze Non c'è niente di male A festeggiare Hai ragione Ci siamo riusciti Yuhuu Oh mio dio Grazie mille Lars È tutto merito tuo Prego lo so Eccolino Che se ne andrà Probabilmente ad allenarsi Con Lord Beerus E Whis Per masterare L'ultra istinto Vabbè Basta parlare di Dragon Ball Super Perché ci manca A tutti Da quando è finito Lino Ormai non lo ferma Più nessuno C'è anche Cyrus Ivan Mi dispiace Sembra che anche Alan Si sia pentito Di quello che ha fatto È imperdonabile Ah ok Il modello di Alan è stato sostituito Con quello di Cyrus Ok Qui c'è una scena Strappa lacrime E una lacrima Strappa scene Qui parte tipo la ship Tra Tra Ivan E Alan Che tipo Si abbracciano E si fanno i cuori E Ada Che tipo Se ne va Imbarazzata In un momento Cringissimo Eccolo qui L'uomo Dalle mille personalità E dall'altro lato Rocco Che poi sono entrambi Rocco Ma ok Intanto stanno filosofeggiando Devo mettere in pratica Io stesso Ciò che ho detto Ad Lars Non avrei mica Intenzione di partire Ah certo che no Non ho intenzione Di sparire Da un momento All'altro Continuerò ad assolvere Le mie responsabilità Qui alla Lega Pokemon Però Se un giorno Potrò attuare Il mio progetto Spero che tu Mi sosterrai Adriano Cioè Sono confuso Perché giustamente Rocco sarebbe Vabbè 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 Ed eccola qui La nostra White Alias Zinnia O Liris Che parla con Sua nonna Che era la tipa Che ci ha raccontato La leggenda Del popolo Delle meteore Ecco Tutti a casa nostra Alla fine Non ho nemmeno capito Che tipo Rosso Vera Vera E rosso Vabbè Vabbè Rimarrà sempre Un gran mistero Di questa serie Prepariamo il piatto Preferito Del nostro piccolo Campione Che sarei io Ok basta Eccoci qua Momento galante Tra me e rosso Ma No senti Già rosso Si spaccia per Vera Ora non spacciarti Pure per un astronauta Per favore Wow Che spettacolo L'elite lady È stato bellissimo Dovrei davvero ringraziare Il signor Norman Perché io Non sono mai stata Così emozionata Oh mio dio Non mi fare il discorso Tipo che sembra D'amore Perché Ti prego Sei rosso Sei vera Io sono già confuso Sono felicissima Di aver assistito Con te A questo spettacolo Meraviglioso Ti prego E cringe Non roviniamo La reputazione Di un personaggio Figo come il rosso Rimasto un figo Per vent'anni E passata una serie Di 40 episodi Per devastarlo Ormai è già successo Però Tra rosso Con le crisi Di identità Che si spaccia Per Vera Che ha la faccia Che gli sparisce Che viaggia Con l'overboard Abbiamo già decimato La reputazione Di rosso Allora a presto Ciao A domani Ah ok Il personaggio Rientra in casa Da solo Bentornato D'Arz Che poi tra l'altro I suoi genitori Sono a casa nostra Quindi è tornato A casa sua Ma Boh Vabbè Pokémon Zaffiro Alpha Episodio Delta Oscuro Fine Ora ho capito Perché l'ha chiamato Delta Oscuro Mad Phoenix Perché in effetti C'era Nituo Oscuro C'era Rayquaza Che era tipo Oscuro Quell'Arceas Che era abbastanza Oscuro Era tutto molto Oscuro Allora Ci ritroviamo di nuovo In camera nostra E qui io Andrei a terminare L'episodio Però Prima qualche Piccola considerazione Allora Come vi ho già anticipato Il prossimo episodio Sarà letteralmente E ufficialmente L'ultimo Andremo a concludere Questa serie Che durerà quindi La bellezza di 40 episodi Tondi tondi All'inizio sarebbe dovuta Durare 39 Anzi Addirittura 38 Però poi L'episodio Delta L'ho fatto un po' più lungo Di come avrei dovuto Certo vabbè Cerco sempre di tenermi Con episodi Che non vadano Oltre i 20 Massimo 25 minuti Quindi Ho cercato di fare il bravo Anche con tutta la serie Non penso di essermi mai spinto Oltre la mezz'ora Quindi sono stato abbastanza bravo In questo Dato che in passato Ho fatto serie Anche con episodi Di 50 minuti Quindi Almeno questa volta Lars è stato molto molto bravo Ne approfitto ancora una volta Dato che comunque Tra la prima parte della serie E la seconda parte della serie Abbiamo fatto una settimana di pausa E tra questi episodi C'è stato anche qualche giorno di pausa Ne approfitto per Rinnovarvi i miei ringraziamenti Per aver continuato A seguire la serie Con un sacco di interesse Quindi Grazie mille poche fanatici Che mi avete seguito Praticamente da quando abbiamo iniziato Ad aprile Fino ad adesso Che è giugno Ragazzi Ma vi siete accorti di una cosa? Nel video dei 200.000 iscritti Avevo detto che Avevo iniziato da poco A prendere YouTube In maniera più seria E a impegnarmi di più Vi ricordate quanto tempo Ci mettevo più o meno Ogni volta Per completare una serie? Ci mettevo mesi e mesi E per la prima volta Ho completato una serie In praticamente Pochissimo 40 episodi E ci ho messo Neanche due mesi Sono stato molto molto bravo Tra l'altro Fino all'episodio 30 qualcosa Non mi ricordo 32 33 Non mi ricordo Ho caricato un episodio Ogni giorno Cioè fino alla fine Della Lega Pokémon Poi ho fatto una settimana di pausa Per iniziare l'episodio Delta E durante l'episodio Delta Ho fatto Tipo Un paio di giorni Dove ho caricato altri video Ma Sono stato veramente bravo Quindi quello che ho detto Nel video di 200k Lo sto mantenendo Sono stato bravissimo A completare questa serie In poco tempo Quindi Noi ci vediamo a questo punto Con il prossimo episodio In cui andremo a fare Tutte le evoluzioni randomizzate Come Mi avete Chiesto Io vi invito a lasciare Un bel pollice in su Vi raccomando Pochi fanatici E noi ci vediamo a questo punto Nel prossimo episodio Per concludere Questa bellissima serie Grazie ancora a tutti E Bye bye Bye